E' stato finalmente siglato l'accordo che trasferisce la gestione sportiva dello stadio Bonolis dalla società Solleia di Franco Iachini al comune di Teramo. Questo importante passaggio è diventato realtà dopo che l'ostacolo principale, la firma dell'intesa da parte del privato, è stato superato. Restano solo ora alcuni passaggi tecnici e amministrativi che non dovrebbero rappresentare grossi ostacoli. Un accordo che ovviamente come tutti gli accordi passa per reciproca intese e così è stato, un accordo complesso perché si trattava di definire una situazione molto complicata, ne abbiamo parlato tante volte, derivante da una concessione che ha dimostrato tutti i suoi problemi e soprattutto cerca di costruire una prospettiva. Quindi si è chiusa questa fase, devo dire un lavoro importante, positivo e adesso la palla passa al Consiglio Comunale che dovrà ovviamente esprimersi. C'è ancora un passaggio che è quello dei revisori dei conti che ovviamente dovranno pronunciarsi sulla delibera, quindi sull'accordo nel suo complesso. Ma credo che abbiamo messo un punto importante che non può che portarci ad esprimere una soddisfazione perché si è raggiunta quell'obiettivo che c'eravamo posti già da gennaio con quell'indirizzo dato, cioè la separazione della parte sportiva dalla parte commerciale con la risoluzione definitiva della concessione, aprire una nuova fase e anche chiudere, perché non è secondario questo, l'arbitrato, quindi con un accordo transattivo che porta anche a raggiungere questo obiettivo. Il Comune verserà alla Soleia 4,3 milioni di euro di cui 2 milioni come anticipo presi dall'avanzo di bilancio e già bloccati per questo scopo. Il resto della somma sarà pagato in 10 rate annuali finanziate con gli introiti derivanti dall'affitto dell'area commerciale. La parte sportiva andrà a gara ovviamente e quindi stiamo già lavorando per la predisposizione del bando, ovviamente in questa fase ancora in modo informale perché fin quando non si definirà in forma conclusiva l'accordo non si potrà procedere al bando, ma già stiamo lavorando per la costruzione di questo bando per la gestione della parte sportiva. Quindi è un accordo che ha tenuto conto di tutto, un accordo che apre una nuova fase e adesso il Consiglio Comunale si esprimerà.